Signori e signori ben ritrovati in questo nuovissimo video, andiamo a commentare Inter-Atalanta e dopo dovrebbe uscire un altro video dove andiamo a parlare un po' di tutti gli acquisti di mercato Ma comunque Inter-Atalanta Ma che cazzo è successo? 4-0 dell'Inter Già dopo 10 minuti era già finita la partita, Turan mostruoso Turan veramente mostruoso, la sblocca lui perché il tiro viene deviato da Jim City in porta Il tiro l'ha fatto da Turan, arriva poi il gol di Barella che tira una ciavattata avoreale straordinaria, entra dentro, carne e secchia un po' di niente, coraggio Allora piccola storia Poi arriva la doppietta di Turan, ma piccola storia Io mi dispiace con quelli che hanno carne e secchia al Fanta Ma ragazzi io non so cosa dirvi Io ho hitato il jackpot perché ho Lukman e Tarimi i titolari, ok Ma ho in panchina solo Iker Bravo e Tarimi mi sa che non ha preso voto Lukman non l'ha preso perché non ha giocato e ho messo il 3-4-3 Solo che davanti vicino a loro c'è Turan e io ragazzi vi posso giurare abbiamo cambiato applicazione E io avevo un giocatore che è partito al Fanta Calcio e mi hanno messo dentro Saul Cocco e l'ho messo titolare Ho giunto lì mi fa una sega paracodiglio Non è possibile ragazzi, comunque ci aggiorneremo col Fanta Calcio Ma comunque dicevo Turan mostruosa, arriva poi la doppietta Ma un Inter che non ha mai avuto voglia di mollare Un'Atalanta che sembrava aver avuto un minimo di reazione dopo il ventesimo Ma poi di nuovo un altro blackout è il Milan E l'Inter li ha totalmente bullizzati Ha bullizzato l'Atalanta L'ultima volta, cioè un'altra volta che abbiamo avuto 4-0 ai primi campionati Erano praticamente 12 mesi fa Inter-Fiorentina, 4-0 Stesso risultato e stesso bullismo Quest'Inter dà un messaggio forte al campionato dicendo Ok c'è la Juve ma noi siamo più forti Noi siamo i campioni d'Italia Un Inter che adesso ci sarà la sosta Ma poi inizierà anche la Champions League Inizierà tutto, inizierà il vero campionato E dà veramente un grande strappo Quest'Atalanta ce lo si poteva aspettare che perdesse Sì 4-0 Dubito che qualcuno si potesse addirittura aspettare un 4-0 Perché comunque 4-0 è un passivo molto importante Quest'Inter comunque ha fatto un calcio a mercato buono Cioè hanno preso Tarimi, hanno preso Zielinski, hanno preso Palacios Sono gli sforzi che rinforzano Come dice la parola stessa La squadra Una squadra che è quasi perfetta Non per battagliare forse per la Champions Ma per poter stravincere e dominare il campionato E fare un ottimo cammino europeo E comunque questa Inter ha fatto veramente Oggi i buchi Oggi ha fatto veramente i buchi dimostrando che Mkhitaryan, Cialano e Glubarella Sono due, tre straordinari centrocampisti Sulle fasce sono molto buoni C'è hanno Di Marco che oggi ha fatto anche lui un partitone Davanti forse l'unica cosa che sta un pochino mancando è Lautaro Perché sta venendo sostituito più che altro da Turam Ma sono sicuro che Lautaro si potrà tranquillamente sbloccare E' tanta roba Per ore ragazzi questa Inter è veramente tanta roba Dopo il primo inizio che ci aveva lasciato un pochino impiacerire Da là non hanno più sbagliato Hanno fatto anche oggi una partita straordinaria come quella contro il Lecce Staremo ovviamente a vedere Adesso c'è la pausa nazionale che diciamo che azzera Forse un pochino qualcosa Perché comunque Ti lascia un pochino Con la mano in bocca quasi Perché vuoi dire Cazzo volevo continuare questa streak di vittorie Ma soprattutto Non sai come tornerai dopo le nazionali Quindi staremo a vedere Barella ha detto che rimarrà Penso che rimarrà fuori anche qualche partita Visto che si deve operare al naso Ma quello ne staremo a vedere Oggi l'Atalanta che ha fatto un calciomercato molto buono Cioè hanno preso Bellanova Che oggi è stato totalmente inesistente Un altro che è stato totalmente inesistente È stato Jim City Che è costato due gol Jim City veramente prestazione Una delle peggiori Si prepara a già essere una delle peggiori al campionato Per quanto mi riguarda Poi il calciomercato Dicevole dell'Atalanta È stato veramente molto buono Cioè hanno preso Bellanova Hanno preso Rui Patricio Non so perché mi è venuto Hanno preso Retechi per sostituire Scamacca Hanno preso Brescianini Hanno riscattato De Ketteler Hanno preso a centrocampo Samartic C'è il posto di Koppmeiners Hanno preso anche qualcun altro Che non mi viene in mente adesso Hanno fatto un grade calciomercato Staremo a vedere Ma questa Atalanta Che era già partita benissimo E poi tutti subito Scudetto 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 E ovviamente Come sempre Il Vate che vi aveva detto Che non c'era bisogno di parlare Già di Scudetto Ma come sempre Qualcuno ci ricade sempre Per colpa del live Io comunque come sempre Vi saluto Noi ci vediamo Nel prossimo video Iscrivetevi Perché siamo quasi a me Ciao Ciao